L'app Immuni sarà sperimentata in Abruzzo. La nostra regione infatti è tra le tre in cui sarà testata l'applicazione per il tracciamento del Covid-19. Le altre due saranno Liguria e Puglia, dunque la sperimentazione sarà al nord, al centro e al sud della penisola. È stato reso pubblico il codice sorgente, ovvero il profilo dell'app, che potrebbe essere disponibile sugli smartphone già tra un paio di settimane. Caricando dati come la zona di provenienza, la provincia e le informazioni epidemiologiche, come ad esempio la durata dell'esposizione ad un utente positivo, l'app manderà alert in caso di vicinanza a una persona a rischio e chiederà se si sono manifestati sintomi riconducibili al coronavirus. In caso di risposta affermativa si seguirà una procedura doc, altrimenti l'utente verrà invitato ad adottare semplici accorgimenti quali il distanziamento sociale fino a data stabilita. E tutto ciò per tracciare i contagi, nonché per tenere traccia degli spostamenti degli individui. I più diffidenti però lanciano l'allarme riguardo la privacy. Innanzitutto perché l'app utilizzerà un sistema di tracciamento elaborato in sinergia da due aziende private, quali Apple e Google, e la versione italiana sarà realizzata dalla SPA Bending Spoons. Ma il garante della privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera, poiché l'app sarà installata su base volontaria, ad ogni utente sarà assegnato un codice casuale anonimo e il tracciamento avverrà non con la geolocalizzazione ma tramite Bluetooth. Inoltre occorre ricordare che probabilmente i timori distopici riguardo il progresso tecnico-scientifico sono già realtà, forse perché il progresso non è stato supportato da un discorso etico in grado di reggerne il passo. I social network infatti continuamente danno in passo i nostri dati sensibili ad aziende pubblicitarie e forze di polizia, in virtù di esigenze economiche e del mantenimento dell'ordine pubblico. I telefonini che abbiamo in tasca, inoltre, all'occorrenza sono videocamere e microfoni ambientali sempre vigili, ad uso e consumo di governi, aziende e malintenzionati che riescano ad accedervi. E i recenti fatti di cronaca, come ad esempio quelli che riguardano intercettazioni e fruizioni di dati sensibili, anche per influenzare elezioni e geopolitiche, ne sono la dimostrazione. Insomma, l'app Immuni potrebbe rappresentare un rischio per la privacy? Per rispondere a questa domanda occorre raffidarsi del giudizio dei tecnici chiamati ad esaminarla. Ma anche qualora così fosse, ciò non intaccherebbe drasticamente una privacy individuale che ormai esiste sempre più formalmente piuttosto che in sostanza. Google, uno dei genitori del sistema di tracciamento, specifica che l'app avrà un impatto positivo anche se verrà utilizzata dal 10 o 20% degli utenti. Il governo italiano, tra due app che rispettavano i criteri della Commissione europea, ha scelto quella elaborata da Bending Spoons, che si sarebbe avvalsa anche della supervisione tecnica di John Elkan, presidente di Fiat Chrysler. Secondo alcune indiscrezioni, prima di essere pubblicata, l'app potrebbe essere testata nella fabbrica Ferrari di Maranello.